Andiamo a vedere che cosa può trovare l'Atalanta perché lunedì ci sarà il sorteggio a Nyon a mezzogiorno Saremo in diretta, Billy, con te, con Paolo Condò per capire un po' l'avversario Allora, Barcellona, Bayern Monaco, Lipsia, Liverpool, Paris Saint-Germain e Valencia Mi sembra che tu abbia evidenziato le due che vorresti Lipsia o Valencia? Dimmi tu, Billy No, no, basterebbe una delle due Le altre sono molto difficili